benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti in questo nuovissimo video raga benvenuti perchè oggi come avete letto anche dal titolo ci siamo qui siamo al mercatino giapponese questo perchè per innanzitutto parlare ad alcuni cosplayer e farci toglierci una domanda una domanda ma quanto costeranno sti cosplay che noi vediamo in giro per le fiere quelli quelli belli far strafighi quei parruccone così ma quanto ci hanno speso e quanto tempo ci hanno messo per fare tutta sta roba raga non lo so lo andiamo a scoprire adesso ma come al solito non prima che vi siete iscritti al canale attivate la campanella mettete like commentare fa tutte le cose che dovete fare sempre dagli e dagli e dagli e che modo scopriamo questo arcano quanto hanno speso si cosplay e si tu vi è qua un attimo vi è qua innanzitutto sono corvina di titans oh senti qua stiamo stiamo chiedendo ad alcuni cosplay quanto quanto costa il tuo cosplay quanto ci hai speso di allora innanzitutto di quanto costa sta parrucca dimmi una cifra dimmi un po' allora la parrucca l'ho pagata 20 euro mentre il vestito l'ho fatto da sola quindi l'hai fatto tu l'hai fatto il mantello questo quanto c'hai speso per comparare questo corso qua in realtà l'ho preso all'eroe merland al metro ma non mi ricordo il prezzo preciso sui 10 euro al metro stava ma beh il body invece il body l'ho preso su shane insieme ai guanti e 5 euro qua famo pubblicità famo e invece la cinta e la cinta l'ho presa su amazon a 10 euro beh beh quindi complessivamente stiamo su intorno 70 80 diciamo a un momento facciamo 100 arrotondiamo a 100 a 100 quanto tempo ci hai messo per fare tutta sta roba qua perché ti arrivava facevi un mesetto un mesetto in un mesetto stai a posto vabbè quindi raga voi invece votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10 mi raccomando raga non fate i stronzi shinobu shinobu senti quanto ci avete speso per fare tutti questi copi quanto avete pagato insomma tutto quanto il tuo più o meno suo è sempre mio è tutto tutta roba tua e quanto ci hai speso per quello 25 per questo 10 euro 10 tutto completo diciamo adesso sono tutte le parti di altri cosplay quindi ah è hai preso pezzi di altre cose quindi la farrucca invece è 13 euro 13 euro oppure la tua era complessa ah era incluso tu quindi diciamo in due quindi due cosplay raga due cosplay manco 40 euro secondo me il più economico manco 40 euro perfetto raga voi votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10 mi raccomando raga non fate i stronzi oggi siamo con chi vuoi chi tu qui sei è un pochino spoiler eh ti avviso quindi si può si può dire dillo 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 allora sono la versione umana di Akaza tu invece Koyuki allora se sto chiedendo un po' agli altri cosplay ma quanto ci avete speso per fare sti cosplay allora in realtà questo qui ho pagato solo la parrucca quindi 15 euro perché il resto già ce l'avevo e tutto il resto già ce l'avevi già ce l'avevo da dove hai piato da un altro cosplay quanto hai pagato no 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 allora questo qua l'ho preso perché faccio un'arte marziale quindi ce l'abbiamo e quanto hai pagato questo eh non l'ho pagato io me l'hanno dato ah ve l'hanno regalato la gonna invece la gonna eeeh con questo fai arti marziale con la gonna no la gonna no la gonna quanto l'avrò pagata 20 euro quindi con una trentina di euro te ne sei uscito ho fatto tutto tu invece non lo so come non lo so eh purtroppo questo è il regalo di compleanno dei 25 anni quindi ah te l'ho regalato il kimono per 25 pure la fascia era compresa e la parrucca invece forse una trentina di euro più o meno eh allora facciamo così arrotondiamo tu hai detto 30 tu una trentina lei facciamola vedo un po' più gli diamo un pre questo secondo me è sui 150 però sui 150 vabbè è più ricca è più ricca quindi 150 più la parrucca è detta la parrucca una ventina adesso sì più o meno 160 ci siamo voi invece come avete fatto nell'elettrico spray mi raccomando votate qua sotto che voto gli date da 1 a 10 asti però vedete c'è pure il tatuaggio ti sei fatto senti che personaggio sei che personaggio sono Anca di Animal Crossing ti stanno a pia per culo purelo di Animal Crossing senti ma quanto c'hai speso per far tutta sta roba allora aspetta in realtà pochissimo perché l'ho fatta io tipo? però ho speso più che altro per la coda penso più o meno 50 euro in tutto il cosplay 50 euro la parrucca vestito sì forse anche 60 dipende una sessantina più o meno e la coda dove sta la coda ma come sta attaccata sta coda con la clip ragazza attaccata con la cinta con la cinta senti quanto tempo ci hai messo per fare tutto per comprare per fare da Ibe da Inter a Amazon allora i vestiti da Shane e poi lo sistemati la coda da Aliexpress e il resto ce l'avevo quindi più o meno hai detto una cinquantina 50-60 euro tempo per fare tutto una settimana una settimana così bello ragazzi voi invece votate qua sotto nei commenti quanto gli date da 1 a 10 mi raccomando non fate gli stronti tu che sei un gatto che sei vi graffia tutto vi graffia qui stanno c'è sta loro tutta tutta pelosa con sta questa pelliccia cosata così senti che personaggio è il tuo principessa mononoke principessa mononote che è quello di Elio mononoke ah ho capito mononote senti senti ma quanto ci hai messo quanto hai speso per fare tutta sta roba così allora la pelliccia tipo 60 ok e la staffa sotto 15 ah sono due cose sono sì perché sennò c'avevo freddo e poi la collana la collana cose che c'avevo in casa quindi non ho speso un cazzo niente scusate il vestito questo qua sto coso così questo sempre c'avevo già in casa questo 15 credo i stivali 40 guarda quindi più o meno 100 euro ci esce più o meno c'ho 5 a matematica non lo so c'ho più o meno vabbè facciamo 60 ragazzi così arrotondiamo ma qua c'è sta pure ma c'è sta pure il bastone la lancia la lancia l'hai fatta a tutti o l'hai comprata l'ho fatta io l'hai fatto quanto ci hai speso per la lancia 15 euro 15 euro quindi ragazzi facciamo 80 euro completo e te ne esci così voi invece ragazzi votate qua sotto nei commenti che voto le date da 1 a 10 mi raccomando non fate i stronzi se no vengo io stesso che la lancia e ve infilza tutti così qua invece stiamo proprio al siamo al fronte ragazzi siamo tornati dal fronte perché tu sei sono un soldato del fronte ignoto oh e allora se dice soldato quanto è speso per far tutto sta ruba allora paradossalmente è molto più economico di quel che sembra perché sono 30 per la giacca originale e 60 per l'elmetto mentre le scarpe sono classici stivali da montagna quindi quelli che trovate trovate e i pantaloni invece ce li ho da una decina d'anni quindi non saprei dirvi una decina 10-15 euro diciamo ah già c'è poi lo zainetto facetemi fargli vedere lo zainetto lo zaino è originale di mio padre quindi non so dire quanto costa lo zaino è bello importante io direi una cinquantina d'euro lo zaino quindi diciamo con 150 euro te ne esci diciamo bello ragazzi votate nei commenti qua sotto che voto gli date a lui da 1 a 10 mi raccomando non fate i stronzi se no viene con con l'elmetto vota proprio in testa vota mi raccomando non fate gli stronzi sono molto curioso però siate sinceri grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.